La calonna è molto più grande, è molto più alta, è molto più alta, non mi mostro che ci sta 50 minuti nel tramante, 40-50 minuti, poi appena ho visto che è il senso che mi rende nell'acqua per sicurezza ho uscito, ho stampato, è molto più forte, ma la pioggia era abbastanza gritta? Si, è spavuta tanto, tanta acqua, ma per lei quale potrebbe essere stata la causa di quello che è avvenuto? E' un'altra parte di Oggia, noi non so da quanto funzionavano, si hanno tenuto tutta questa patria, non è vero, non sono un paese, ma ad oggi non ci sono dispersi? L'acqua arrivava diciamo che era normale l'acqua, pioveva forte, però l'acqua era normale, dove era sopra le ruote, dopo circa 5 minuti è arrivato un fiume d'acqua, un uomo che si è alzato dietro della macchina, mi è affascinato per circa 30 metri, galleggiando, sono uscito dal finestrino del lato, mi è nuotato verso la strada, mi è male, nel frattempo c'erano tutti i bambini che gridavano, il panico assoluto, non se lo aspettavano? Completamente, non mi è affascinato completamente, neanche io e neanche altre persone, infatti non abbiamo avuto il tempo di spegnere la macchina, perché è stato un fiume. Ma per lei la causa quale potrebbe essere? Le fa forse affluenta dell'acqua? O a lei sembrava una pioggia qualsiasi come succede in estate? No, la pioggia era abbastanza forte, però sicuramente o non c'è manutenzione dei bambini, perché se andiamo a guardare si vede benissimo che non c'è manutenzione dei bambini. Certo. In bocca al luto. Grazie. Grazie.